Io, la mia squadra e la mia società siamo molto ma molto sereni e tranquilli. Noi dobbiamo fare la nostra partita e no come ho letto delle dichiarazioni di un calciatore del Catanzaro che è una partita da guerra, schiaffo e pugni. Forse lui ha giocato in altre parti dove facevano schiaffo e pugni. Noi non facciamo queste cose qua, noi facciamo una partita di calcio. Poi se c'è da battagliare, da fare la guerra, siamo pronti. Non è un problema per noi assolutamente, né per me né per la mia squadra. Ma conoscendo i miei ragazzi e conoscendo l'ambiente, conoscendo quello che si vive a vivo, facciamo la nostra partita. Chi sostituirà a Franchino lo farà egregiamente. Poi è un ruolo in cui lui si adatta bene a fare sia il quinto che poi il marcatore. Per cui era un ruolo che quando c'è lui, che sta bene, poi ci sono i tre difensori. Magari più nella fase di spinta preferisco Franchino. Però Legras ha fatto sempre grandi partite in quel ruolo e quindi sta bene. Domenica non ha giocato a Pagani perché è stata una scelta proprio in virtù di questo fatto tattico. Io preferisco un giocatore che magari ha più doti difensive come Franchino e ha più gamba rispetto a Legras che è più un centrocampista. Dobbiamo pensare a vincerla la partita, ma la dobbiamo vincere con la testa, essere intelligenti, non buttarsi all'arma bianca. Anche perché noi siamo una squadra che ha molto equilibrio, una squadra in cui sta bene in mezzo al campo. Ci sono giocatori che riescono a fare benissimo le due fasi. È normale che una partita che se ci capita l'occasione dobbiamo metterla dentro. Perché noi siamo una squadra che costruisce, però nella finalizzazione magari pecchiamo un pochettino. perché anche per esempio Domenica a Pagani torna un attimo indietro, se Sov o Bubas avesse o anche Viola buttata la palla dentro. Era una partita che potevamo conturre poi 2-1, non 0-1 sul rigore alla fine. Ecco, noi dobbiamo pensare a questo, che quando ci capita l'occasione dobbiamo fare gol. Noi ci dobbiamo isolare da queste cose come squadra, noi dobbiamo pensare soltanto a fare il nostro lavoro in mezzo al campo, a prepararci bene come abbiamo fatto questa settimana e come stiamo facendo da un po' di tempo dopo la partita di Siracusa. Noi siamo una squadra in questo momento abbastanza tosta, abbastanza dura da affrontare. Quindi voglio dire, noi il problema ce lo dobbiamo porre, sì, rispetto per il Cadanzaro, ma assolutamente non timore. Faremo la nostra partita e cercheremo di portare a casa i tre punti.